Musica Quanti di voi me l'hanno mandata e vi ringrazio veramente tanto Per inviarmi una clip trovatele in descrizione Mi inviate il video in pubblico Non elencato o quello che volete Basta che non è in privato Perché se è in privato io non lo posso vedere Si chiama privato apposta Detto ciò Le clip di oggi sono belle Anche se veramente ci sono rimasto sorpreso Perché sono veramente belle alcune E soltanto che su alcune sono incerto Nella posizione in cui le ho messe Quindi non accanitevi insultandomi Perché io non ho fatto nulla di male Vi voglio bene Ma almeno ditemi come le avreste messe voi In contraposizione a come le ho messe io Quindi fatemi sentire poi i vostri pareri Detto ciò passiamo subito in quinta posizione Troviamo Piro Polagger Musica 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 Quarta posizione Troviamo Xenow Musica 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 Terza posizione Troviamo Contadino Musica 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 Seconda posizione Troviamo Zayball Musica 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 E prima posizione troviamo Zarda Musica 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 Troverete il canale di Zard in descrizione Passateci, iscrivetevi, fare quello che volete Avete anche i nomi degli altri se volete passare dall'organario Fare come volete L'unica cosa che volevo dire Zard ha lo shot veramente figo Piro Pollager ti ho messo quinto perché non ero certo al 100% che quello shot lo avesse preso in Katniss Ero un po' dubbioso se fosse stato un Katniss o un danno di caduta Ti ho messo quinto per questo però tra quinto, quarto, terzo non cambia troppo Perché alla fine sempre quelle posizioni sono Secondo Zable veramente bello shot, niente da dire Detto ciò comunque lasciate un bel like se vi fosse piaciuto per supportarmi Un commento, fatemi sapere la vostra Ci vediamo domani Perché domani ci sarà il video di un anno su Youtube Ci vediamo domani Per il break è tutto Bella